Signori, qual è uno dei tuoi desideri principali? Andare in? Voglio andare in palazzo, anzi no, nella scuola di karate, come ti ho detto? Perché il maestro debba dare a te mazzate e tu le debba dare a me. L'abbiamo inteso, però noi dobbiamo impratichirci anche con altri sport, tu stai qui senza far nulla, quindi ti teniamo impegnato e abbiamo uno strumento, abbiamo casualmente uno strumento, la nostra mitica palla, non la palla qualunque, la palla del campione. Perché c'è due, uno mi va all'alco, lo mi sono l'altra volta. Il kimono. Il kimono. E l'altro invece è piccolino, con la cinta già. Va giusto, va giusto. Giusto. Allora, quella me la dà a me e io le do a te. Ok, così facciamo i ragazzi dal kimono d'oro. Ora ti sfido a palla a volo, vediamo se tu sei in grado di battermi, facciamo una sfida a cinque, senza esagerare. Chi riesce a vincere questa grande sfida avrà un premio importantissimo. Ci stai? Lo so che è leggero nel pallone ideale. Ci stai? Ci vuoi provare? Ci stai? Ci vuoi provare? Lello, questo passa il convento, non è che posso... Ci stai? Ci vuoi provare? Proviamoci dai. Proviamoci. Ci sei? No. No, dobbiamo giocare a palla a volo. Dai. No? È uno al zero per me. Uno pari, uno pari, uno pari, va bene. Eh, 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 Lello devi saltecchiare. Due a uno, dai. E siamo al tè. Tre a uno, Lello. Tre a uno. Mi piace vincere facile. Facile. Lello è ostico. Quattro a uno, quattro a uno. Stai esagerando, Lello. Per me è il match ball questo, eh. Signori, la prima sfida della stagione estiva è andata ad appannaggio mio. Ma, Lello, con un po' di allenamento, con un po' di allenamento potrai anche tu, troppo affanno hai, Lello. Devi camminare un po' di più all'interno della struttura. Mi sembra di camminare non da andare alla scenicolometra. Allora, sì. Perché a scendere un po' di scala, salite invece le faticose, come hanno detto. Vabbè, me lo voglio fare lo stesso. Voglio camminare a piedi. Noi che devi non nebo il dato. Darsi il bene, tacchepum, tacchepum, tacchepum. Le chiacchiere sono tante. C'è proprio, in questo periodo, ha proprio la voglia. Perché? Perché, quello, voglio dare anche io le totote. Qua le vede, vieni qua. Lello. Ricomponiamoci. Va bene? Scusami, quale date il pugno? Perché non ti posso toccare come dico io? Come sempre, c'è questa battuta pronta. Va bene. Per ora, carolello, ti salutiamo. Ma che? Devo andare, sei qua. Ti salutiamo. Ma che? Sei qua. Ti lasciamo il pallone così ti puoi allenare. Ah! Certo il pallone. Mi stai sfidando senza allenamento. Guarda che la prossima ti umilio completamente. No, tu mi rieschiato e non tu ha mai. Accetto la sfida. La prossima sarà senza esclusione di colpi. Che cosa, che cosa? Aiaia, mi fai male. Aia! Oh! Il pallone ho preso. Ma sei impazzito. Come te? Qua, 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 qua che ho preso. Mi fai male, poveri. La sacco. Ma tu hai amore io. Invece sono te. La sacco. Mi fai male. La sacco, picca mezza. Picca mezza. Picca mezza. Picca mezza. Stattemolo. E se ne ha chiusi fu stavolta. E la... Così è. Non io, comeio. Driverle musica. Picca mezza. Un'animo. Un'animo. No. Rim towns caca mezza.